Ora noi da Pompei ci spostiamo a Roma, torniamo a Roma e vicino a Roma c'è un santuario proprio sulla via Ardeatina meta di tanti pellegrinaggi e dalla Pentecoste fino all'Immacolata ogni sabato sera c'è un pellegrinaggio che parte che parte per tutta la notte per raggiungere il santuario della Madonna e del Divino Amore. Noi andiamo un po' a conoscere questo santuario e ciò è la vita che attorno ad esso si sviluppa. Io ho ricevuto una grandissima grazia, grande, però è una cosa personale, la tengo per me, per noi di famiglia. Noi ogni anno facciamo questa visita al Divino Amore e veniamo a chiedere anche alla Madonna, a questo santuario che ci manda un buon raccolto finché alla fine dell'anno risolviamo qualche cosa. Dal 90 che veniamo a piedi, abbiamo tanta, tanta, tanta fede. Alla Madonna del Divino Amore per noi è un simbolo, è un simbolo. Nel 1740 un viandante che andava verso la città di Roma, arrivato a questo punto fu assaiuto dai cagni dei pastori e ottenne, invocando la Madonna, tre risultati. Superò il pericolo, riprese il cammino e raggiunse la meta. Da lì cominciò una fiumana di grazie e miracoli. Maria è una donna di famiglia, una donna di casa, qui alla casa di campagna, quindi ama accogliere i suoi figli che vengono per ascoltarli, oltre che per eragire le grazie del suo Divino Amore. La festa della Madonna del Divino Amore coincide con la festa della Pentecoste ed è interessante sottolineare questa relazione profonda che esiste tra la Madonna e lo Spirito Santo, tra la Madonna e la Chiesa. La Madonna era presente nel Cenacolo, nel momento in cui lo Spirito Santo scende sugli Apostoli e nasce la Chiesa, la Chiesa che poi si diffonde nel mondo intero e la Madonna del Divino Amore mette proprio in luce questo amore di Dio, la potenza dello Spirito Santo che cambia la vita degli uomini. Questo santuario, lo abbiamo sentito, risale al secolo XVIII, ma è stato nel secolo scorso riscoperto, rimesso in luce, grazie proprio ad un parroco romano, Don Umberto Terenzi, che poi ha fondato attorno alla Madonna del Divino Amore un istituto religioso con dei sacerdoti, gli oblati del Divino Amore e delle religiose. Insomma, la Madonna agisce non soltanto facendo grazie a chi le domanda e nel santuario del Divino Amore si diceva di fare grazie a tutte loro, ma anche suscitando anime generose che seguano il suo esempio, diventare madre e padre spirituali per tutti coloro che hanno bisogno.